Allora questo signore è Giuliano Botta innanzitutto, buongiorno Giuliano e potrebbe essere visto come lo spauracchio dalle ragazze del CS Alba che iniziano questa stagione, iniziano appunto adesso l'avventura nel nuovo campionato perché lui è il preparatore atletico e allora caro Giuliano cosa farai fare a queste ragazze, come sarà impostata questa preparazione? D'accordo con il coach abbiamo pensato di fare una preparazione per quanto mi riguarda soprattutto per il discorso pesi, quindi macchine o colpo libero che sia per rinforzare la muscolatura delle ragazze. Si parte fin da subito Giuliano? Fin da subito, domani e dopo ci saranno due sedute di conoscenza perché io non conosco assolutamente nessuna delle ragazze essendo che l'ultimo anno che sono stato qui era 4 anni fa, sono tutte nuove per me, quindi dovrà conoscere prima le ragazze e capire che tipo di abitudini hanno a livello di preparazione atletica, dopodiché aveva fatto un lavoro di rinforzo e di prevenzione di infortuni per tutto l'anno. L'obiettivo è quello di tenerle sopra l'80% più a lungo possibile con i picchi di 100% possibilmente nei momenti giusti. Per bacco, quindi insomma voglio dire, ma non è una cosa così semplice Giuliano, non è vero? Non è una cosa semplice, sicuramente. Poi bisogna mettere in conto gli eventuali inghippi durante la stagione, insomma, quindi vabbè. Si cerca di evitare. Come diceva Gabriele, certo giustamente, come diceva Gabriele, lavorare fin da subito, insomma si parte molto molto forte. Ecco, a livello personale è un ritorno il tuo Giuliano, tu hai già lavorato al CS Alba, sei stato richiamato quest'anno da Gabriele, dallo staff, hai accettato, sei ritornato quindi a lavorare? Sì, sono stato qui fino a quattro anni fa e da più di dieci anni sostanzialmente, fin dalla B2, abbiamo fatto la promozione in B1, dopodiché sono stati quattro anni di pausa, quest'anno il Presidente ha voluto farmi ritornare, è stata un'idea ben accettata, siamo qua per lavorare. Benissimo, allora grande buon lavoro a Giuliano, torchiale un pochino in questi giorni. Diciamo che l'idea di base è che se il preparatore è simpatico non va bene qualcosa. Ecco, quindi il preparatore viene visto fare? Se arrivo il preparatore e sono contenti di vedermi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ok, perfetto, va bene. Senti, un occhio anche all'alimentazione o quello? Se c'è, io sono aperto a qualsiasi tipo di domanda, nel senso che se hanno bisogno di alimentazione, se hanno bisogno di lavori aggiuntivi oltre al discorso del maligno, resta a disposizione loro quando vogliono sostanzialmente, perché tanto noi siamo aperti 9.22, quindi se vogliono qualcosa in più non è un problema, basta parlare. Buon lavoro caro Giuliano, grazie a te, ciao.